Buonasera dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Nicola Giannattasio. In A1 in direzione Bologna, 8 km di coda per traffico congestionato tra Monte San Savino e Val Darno. Ci sono poi code a tratti tra Firenze Imprunita e il Bivio per la variante di Valico. Rallentamenti tra Val Darno e Firenze Sud. Sulla TPLI ci sono code in uscita a Lastra Signa in direzione Firenze. In direzione Mare, code a tratti per viabilità esterna che non riceve tra Firenze Scandici e Ginestra Fiorentina. Un raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata e ristringimento di carreggiata tra San Casciano e l'allacciamento per la 1 di Firenze Imprunita. A Firenze in piazza delle cure per lavori fino a fine febbraio, ristringimento di carreggiata tra Viale Volta e Viale dei Mille. Buon sito Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio! Buon viaggio!